Musica Ancora un saluto dalla nostra redazione, bentrovati al consueto appuntamento con il Tg10, l'apertura del telegiornale dedicata all'assoluzione sentenziata in appello per l'ex assessore comunale della giunta Fasulo Marina Laboria e per l'ex consigliere comunale Terenziano Di Stefano, già capogruppo di articolo 4. La vicenda è riferita ai bilanci consuntivi del comune di Gela dal 2010 al 2012. Tutti gli altri, una trentina tra sindaco, assessori e consiglieri comunali per timore di non potersi ricandidare o di risultare inelegibili, pagarono la sanzione inflitta dalla Corte dei Conti, ammettendo così la loro responsabilità di avere l'uso il patto di stabilità, cosa che invece non fecero Laboria e Di Stefano. Sentiamo. Si rifiutarono di pagare la sanzione pecuniaria inflitta loro dal procuratore della Corte dei Conti, il dottore Sperandeo, sostenendo di aver agito in buona fede in merito agli atti messi a loro disposizione dagli uffici comunali competenti. Vennero assolti, ma i magistrati della Procura Generale scelsero di impugnare la sentenza dello scorso 24 settembre, rivolgendosi alla Corte d'Appello. Ieri è arrivata una nuova e definitiva assoluzione per l'ex assessore comunale della Giunta Vasulo, Marina Laboria, che reggeva la pubblica istruzione, e per l'ex consigliere comunale, Terenziano Di Stefano, già capogruppo di articolo 4. La vicenda è riferita ai bilanci consuntivi del Comune Vigela dal 2010 al 2012. Tutti gli altri, una trentina tra sindaco, assessori e consiglieri comunali, per timore di non potersi ricandidare o di risultare ineleggibili, pagarono la sanzione inflitta dalla Corte dei Conti, ammettendo la loro responsabilità di avere eluso il patto di stabilità. Fin dal primo momento, Laboria e Di Stefano avevano escluso di aver avuto responsabilità nell'intera procedura contestata dai magistrati contabili. Se avessero pagato, come gli altri, avrebbero ammesso le loro responsabilità. Difesi dall'avvocato Girolamo Rubino, del Foro di Palermo, i due ex amministratori comunali hanno affrontato i processi e ne sono usciti, come dicevamo, assolti. La giustizia trionfa sempre, lo ha detto l'ex assessore Marina Laboria. Sentiamo. Avvocato Laboria, soddisfatto per quanto è avvenuto ieri, anche in appello, è arrivata la soluzione per lei e per il consigliere comunale Di Stefano. Una lunga procedura, però, come voi sottolineate più volte, la giustizia alla fine trionfa. Sì, una grande gioia, una grande soddisfazione. Devo dire che in questi due anni, nonostante la cosiddetta alea del giudizio, non ho avuto dubbi che la magistratura alla fine prendesse questa decisione. Non c'era assolutamente nulla, per cui, insomma, dovevamo essere condannati, non avevamo fatto nulla di illecito e quindi giustizia è stata resa. Ma bisogna correre dei rischi per chi fa politica? No, assolutamente. Io, quando mi è stato notificato l'invito a dedurre, la prima cosa che ho fatto è stato andare a controllare la delibera, questa di approvazione dei bilanci. Non c'era nulla, assolutamente, da cui potevano emergere profili di liceità. E, peraltro, io come assessore ero molto attenta quando firmavo delle delibere e quindi, a quel punto, ho deciso di non pagare, non era giusto, non era corretto. Anche perché, in quel caso, pagando, avreste ammesso le vostre responsabilità? Ovvio, ma, torno a ripetere, io ho letto la delibera, l'ho letta attentamente e, torno a ripetere, quando io mi accingevo a sottoscrivere una delibera, la sottoscrivevo pienamente consapevole che in quella delibera non c'erano profili di illiceità. E, secondo lei, gli altri invece hanno fatto male, alla fine, a pagare? Ma, io non voglio assolutamente giudicare gli altri, ognuno decide per se stesso. Un attimo alla soluzione di ieri, comunque, diciamo, soddisfatta e adesso, lei cambia qualcosa nella vita? No, non è che cambia qualcosa, però è un modo per dimostrare a tutti che non si è fatto nulla di sbagliato, nulla di illecito. Era giusto così, era il giusto finale di questa vicenda. Qualcuno, in merito alla soluzione di ieri, parliamo della vecchia giunta, la chiamata per congratularsi? Io non sono mai stata chiamata da nessuno, né al momento in cui ho prestato le mie dimissioni, né al momento in cui ho ricevuto il primo verdetto di assoluzione, né ieri. Adesso torniamo ad occuparci del gravissimo attentato incendiario che, la notte di martedì, ha distrutto tre e mezzi della GELAS Multiservizi. Ai nostri microfoni, Giuseppe Robilatte, amministratore delegato. Sentiamo. Giuseppe Robilatte, a distanza di 24 ore del gravissimo attentato incendiario, e non è la prima volta che accade, che ha coinvolto la GELAS Multiservizi, lei si è fatto un'idea di chi può avercela proprio con la società del Comune di Gela? Guardi, noi ci ripetiamo ovviamente alle forze di polizia che sicuramente dovranno trovare una soluzione a quella che ormai è diventata una storia che incomincia veramente a dare fastidio perché si rimane sgomenti di fronte ad una società che in fondo si occupa di servizi rivolti ai cittadini, alla città. Quindi non trovo il nesso tra fare queste azioni da criminali. È quello che svolge la società. Però come sottolinevamo non è un caso isolato, già in più di un'occasione proprio la GELAS Multiservizi ha subito degli incendi. Sì, non è un caso isolato perché io ricordo che noi siamo in una struttura del Comune di Gela, noi siamo tra virgolette il Comune di Gela, noi siamo una società partecipata, una società in house providing, quindi di proprietà del Comune di Gela al 100%, ci consideriamo come il Comune di Gela, svolgiamo servizi esclusivi, monomandatari è il Comune di Gela, noi facciamo servizi solo per il Comune di Gela, per cui non riesco a comprendere quale possa essere la finalità, cosa passi nella mente di chi fa queste azioni criminali. I rapporti sono distesi all'interno della società, tra i lavoratori, con l'amministrazione, con il Comune, quindi è inspiegabile, veramente inspiegabile come possano succedere queste cose. Chiederò una riunione anche con il sindaco, con l'amministrazione comunale, perché questa volta non passi questa cosa così come tutte le altre volte, cioè con una denuncia fatta, dobbiamo fare quadrato su questa vicenda, cioè trovare soluzioni, cercare di trovare soluzioni. Postanzialmente si colpisce la Gheelas, si colpisce il Comune? No, si colpisce se stessi secondo me, perché colpire la Gheelas e colpire il Comune di Gela, il Comune di Gela siamo noi, siamo i cittadini di Gela, e colpire se stessi, cioè dare un colpo al cuore, ritengo, della città, perché la Gheelas, ricordo a tanti che non lo sanno, è una partecipata che non è una scatola vuota, cioè una società che eroga servizi, tanti servizi per la città, a volte tra mille difficoltà, però è una società sana, è una società che vuole lavorare, è una società che non posso lamentarmi di nessuno dei dipendenti, perché sono tutti impegnati a fare il bene di questa città, e a fare bella figura a questa città, al di là dell'amministrazione comunale, con Fasulo, con Messinese e con quelli che eventualmente verranno. Altro incendio la scorsa notte a Gela nel quartiere Albani-Roccella, poco dopo le tre le fiamme hanno interessato una macchina in sosta, indagini sono state avviate dalla polizia. Quali sono le azioni che sono state messe in campo per migliorare il controllo del territorio gelese, per rendere ancora più efficace l'importante lavoro svolto dalla polizia municipale, e quanto ha chiesto l'amministrazione comunale e il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle. Una risposta la si attendeva all'inizio del mese, durante i lavori di consiglio comunale, poi esaltato per ragioni procedurali. Molte domande urgenti, sottolineo Negrillini, dunque non hanno avuto risposta. Forse non tutti sanno, ribadisce il gruppo consigliare del Movimento 5 Stelle, che c'è una grave carenza in pianta organica, con particolare riferimento all'età media degli agenti in servizio, che è molto alta e pertanto non sempre idonea a svolgere servizio di pubblica sicurezza sulle strade, che allo stato attuale il corpo di polizia municipale applica un sistema di turnazione parziale, con conseguente riduzione degli agenti in servizio di turno, che a causa della turnazione parziale non vi è controllo completo del territorio da parte della Polizia Municipale, perché già a partire dalle 20 circa, nel territorio del Comune Giolese, non vi sono pattuglie di Polizia Municipale in servizio. Questa condizione genera danno alla sicurezza della città, perché a coprire i compiti di servizio della Polizia Municipale, intervengono le altre forze dell'ordine, Polizia e Carabinieri, con conseguente sottrazione di uomini e mezzi ai servizi specifici di quei corpi. Fino al mese di maggio agli agenti di Polizia Municipale non è stata pagata la reperibilità da quasi un anno. C'è inoltre una condizione di assoluta inadeguatezza logistica dell'edificio adibito a sede del Comando di Vigili Urbani, privo di recensione adeguata a sistemi di controllo dell'accesso e Camera di Sicurezza in caso di fermo giudiziale. Ad oggi, chiudono i grellini, non sappiamo quali siano gli interventi dell'amministrazione in tal senso e quale sia il programma per migliorare la condizione di sicurezza in città. Ad oggi la città e la sua sicurezza sono garantite dalla buona volontà di un corpo che ha bisogno di interventi di sostegno importanti, anche per lavorare in sinergia con gli altri corpi dello Stato, perché con la semplice buona volontà non andremo lontano. Anche Gela si appresta a celebrare la giornata mondiale del rifugiato. Il prossimo mercoledì 21 giugno Gela per l'accoglienza e questo è il tema dei festeggiamenti che prevedono una serie di appuntamenti volti a migliorare e favorire l'integrazione degli ospiti con la città, con comunità aperte e solidali per un futuro condiviso. La giornata mondiale del rifugiato mette insieme in rete Grest, centri di accoglienza, associazioni ludiche impegnate nel sociale e istituzioni varie. Lunedì 20 giugno presso la sede del coordinamento delle opere in via Sentinello numero 8, alle ore 10 si terrà una simulazione del primo colloquio di prima accoglienza. In Guavolof alla simulazione seguirà poi l'avvio di un laboratorio di integrazione linguistica africana che si terrà nell'ambito del Grest. Luglio è insieme della parrocchia Regina Pacis, domani e lunedì 20 invece spazio allo sport con il torneo Un Gol per Dire Grazie che sarà disputato presso il centro ludico e sportivo Wimbledon, alle 18 promosso dallo Sprar Maeva di cui è ente capofile e libero consorzio dei comuni di Caltanissette. Inoltre un'attività ludico-recreativa e lingua inglese sarà tenuta da due ospiti dello Sprar Ubuntu di Gela presso il campus del coordinamento delle opere ospitato dalla scuola media Giovanni Verga. Domani e sabato prossimi alle 9 presso l'auditorium del presidio ospedaliero Vittorio Emanuele di Gela si terrà un seminario di studi sulla gestione dei centri di accoglienza per immigrati preseduto da Vincenzo Cascio, direttore scientifico, in collaborazione con la Fondazione Antonietta e Salvatore Aldisio. Con questo seminario ci si perfigge di fornire agli operatori sociosanitari gli strumenti pratici e le strategie applicative che consentono di gestire comunità come i centri di accoglienza per immigrati nelle diverse aree di convergenza psicosociale e l'area sanitaria. Il seminario è patorcinato dall'ordine professionale degli assistenti sociali della regione siciliana che consentirà ai partecipanti l'acquisizione di crediti formativi professionali. Ci fermiamo, c'è la pubblicità, restate con noi. Bentornati in studio per la seconda parte del nostro telegiornale Licenziamenti collettivi e individuali è il tema di un incontro che si terrà domani alle 15.30 presso l'Aula Moscato del Tribunale di Gela. L'evento è organizzato dall'Ordine degli Avvocati di Gela, dall'Age e dall'Ordine dei Consulenti del Lavoro di Caltanissetta. Relazioneranno gli Avvocati Palma Balsamo, Giuseppe Marino e Giuseppa Cannizzaro. Adesso parliamo della vicenda che interessa il commissariato di polizia di Niscemi, destinatario di uno sfratto non eseguito soltanto per l'innato senso civico dei proprietari dell'immobile. Tuona il deputato nazionale Alessandro Pagano. Come può uno stato pensare di garantire la sicurezza al suo popolo? Dice se non è capace di assicurare nemmeno la sussistenza stessa dei presidi di legalità del territorio. Vediamo. Il commissariato di polizia di Niscemi, giorni addietro, è stato raggiunto da uno sfratto non reso esecutivo. I proprietari dell'immobile infatti non lo hanno messo in esecuzione per un innato senso civico. E' quanto segnalano i segretari del sindacato italiano Lavoratori Polizia della Cigelle, Pino Lardo e Lino Mastrantonio. La vicenda è subito balzata agli onori della cronaca. Il componente della Commissione Giustizia della Camera, Alessandro Pagano, ha presentato una interrogazione parlamentare sottolineando di essere indignato per quanto sta accadendo. Come può uno Stato pensare di garantire la sicurezza al suo popolo, dice, se non è capace di assicurare nemmeno la sussistenza stessa dei presidi di legalità del territorio. E' nella più totale disattenzione degli organi competenti che la criminalità trova spazi liberi di insedimento, facilitata inoltre da una diminuzione di organico dovuta a continui trasferimenti, pensionamenti senza alcuna sostituzione e prolungati stati di malattia. La precarietà genera insicurezza, l'insicurezza genera malcontento e il malcontento un perenne Stato di sfiducia e senso di impotenza. Non è possibile, continua Pagano, che ai cittadini di un comune non vengano garantiti i diritti minimi di sicurezza e inaudito che si rischi di non poter esporre denuncia per mancanza dell'organo competente. Vorrei ricordare in primis al Premier Renzi che il nostro uno Stato di diritto è come tale e deve assicurare la salvaguardia e il rispetto dei diritti e delle libertà dell'uomo assieme alle garanzie dello Stato sociale. Alessandro Pagano pretende che vengano intraprese le dovute iniziative di concerto con l'amministrazione comunale di Niscemi, volte a garantire una sistemazione idonea allo svolgimento dell'attività di polizia e controllo del territorio utilizzando immobili comunali attualmente in disuso. Una scelta in comune, esprimi la tua volontà sulla donazione di organi e tessuti e il tema che sarà trattato martedì 21 giugno prossimo alle 19. Nei locali del Club Vela sul lungomare Federico II di Svevia a Gela interverranno tra gli altri il sindaco Domenico Messinese Bruna Piazza, coordinatrice del centro regionale Trapianti e Lucio Antona, direttore sanitario di rianimazione e terapia intensiva e coordinatore locale dell'ASP per la donazione ai trapianti. Saranno presenti anche i responsabili delle associazioni ADMO, ADAS e ADOCES. Favorire l'accoglienza dei migranti attraverso una programmazione che possa consentire di fronteggiare in maniera più organizzata il flusso migratorio. Questo l'obiettivo, ma anche e soprattutto l'ordine del giorno del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione durante il quale per l'occasione sono stati presentati dal prefetto Maria Teresa Cucinotta al questore, al presidente e al procuratore della Repubblica del Tribunale per i minorenni, gli avvisi finanziati dal fondo FAMI, vale a dire il fondo asilo, migrazione e integrazione, che prevedono l'individuazione di mille posti per le strutture dedicate alla prima accoglienza e duemila posti per le strutture di seconda accoglienza. Il Consiglio Territoriale sull'Immigrazione è uno strumento molto importante di supporto all'attività anche della Prefettura per avere anche il polso del livello di integrazione o comunque delle problematiche più importanti che si possono registrare sul territorio e anche a beneficio soprattutto dell'integrazione dei migranti. Inoltre il Ministero ha diffuso la carta della buona accoglienza, che è un accordo sottoscritto al Ministero dell'Interno con l'Anci e anche con la Lega delle Cooperative, per regolamentare con cui si obbligano, si fa un patto per cercare di arrivare ad una vera integrazione e accoglienza dei migranti. Un discorso a parte ha infatti riguardato quello che rappresenta un vero e proprio dramma legato alla presenza nel territorio dei minori stranieri non accompagnati, i cosiddetti bambini invisibili che provengono da ogni parte del mondo. Secondo l'ultimo rapporto Migrazioni in Sicilia 2015 se ne contano in Italia 8.944 con un aumento di 704 unità, vale a dire l'8,6% rispetto allo scorso anno, quando la variazione era stata di più del 36,3%. Si tratta in prevalenza di ragazzi di età compresa tra i 16 e 17 anni per lo più di sesso maschile e provenienti da Egitto, Albania, Eritrea, Gambia e Somalia. Sarà presentato domani alle 19.30 presso l'Eschilo Lab il libro Camicette Bianche di Esther Rizzo converserà con l'autrice e Vita Lorefice. Si rinnova anche quest'anno l'appuntamento con la solidarietà dei soci dello Juventus Club Doc di Gela che in collaborazione con l'ADAS organizzano una giornata dedicata alla donazione di sangue denominata Chi dona sangue ti fa la vita. L'iniziativa deriva dalla volontà del Consiglio Direttivo dello Juventus Club Doc di Gela di coinvolgere tutti i soci e tifosi juventini per dare un segno di solidarietà al servizio del prossimo. I donatori di sangue che si ereteranno al centro di raccolta fisso dell'ADAS, sito in via degli Appennini numero 5, riceveranno un gadget offerto dal club. L'appuntamento è fissato per domenica 19 giugno prossimo a partire dalle 8.30. Teatro sotto le stelle all'antidoto di Gela. Tutti gli spettacoli si terranno all'aperto. Si comincerà venerdì 24 giugno alle 21.30 con attenti a quei due della compagnia antidoto. La rassegna si concluderà a settembre. L'ingresso è di 5 euro a coppia. È prevista anche l'esibizione di Giobbe Covatta. È tutto anche per questa edizione del nostro telegiornale. Grazie per il gentile ascolto e per aver scelto anche oggi la nostra informazione. Arrivederci. Grazie per la visione.